ok andiamo messa dalle monache poi passo a prendere gli altri e poi a spoleto e roma all'aeroporto a ciampino si parte era tutto al top eccoci l'aeroporto roma ciampino sorpresa come sempre volo spostato ci stanno i lavori invece che alle 16 10 la partenza alle 17 40 è quello per palma di maggiorca vi chiederete perché palma di maggiorca perché non ci stanno i diretti quindi facciamo scalo a palma di maggiorca e poi andiamo a santiago per poi prendere l'autobus e tornare indietro con questo cambio però che succede non siamo sicuri di poter prendere la coincidenza per santiago da palma di maggiorca lo racconto dopo dai arrivati a palma di maggiorca con due ore di ritardo è arrivato in ritardo anche l'altro aereo veramente quindi ce la facciamo non so ancora arriveremo a santiago ma ci arriviamo non si sa come abbiamo preso l'aereo per santiago anzi stiamo salendo e non si sa come nel frattempo sta prenotando per dormire perché di disagio grande non abbiamo prenotato arrivati a santiago l'aeroporto siamo arrivati forse siamo arrivati e dopo 19 ore in piedi in viaggio si va a dormire ci vediamo domani ciao ciao